Un'emergenza in continua crescita anche a Cremona, quella dell'amorosità incolpevole che vede sempre più famiglie perdere la casa colpite da sfratto esecutivo. Casi umani che finiscono purtroppo spesso in tragedia. Il Comitato Antisfratto di Cremona, al lavoro al fianco di alcune famiglie, ha deciso di occupare simbolicamente alcuni immobili vuoti dell'Aler e del Comune nella giornata di oggi in concomitanza con lo sciopero transnazionale. L'obiettivo è dimostrare la disponibilità degli alloggi a fronte della richiesta e richiamare l'amministrazione comunale ad adottare soluzioni tempestive con nuove politiche abitative per garantire il diritto alla casa. Abbiamo occupato per dare un segnale alla città, visto che la settimana scorsa come Comitato Antisfratto abbiamo bloccato uno sfratto esecutivo, quindi bloccando l'ufficiale judiziario e di fatto rimandando di un mese lo sfratto esecutivo di una famiglia cremonese composta da due persone e il capo famiglia è invalido al 70%, quindi è una situazione anche abbastanza grave. L'amorosità di questa famiglia era dovuta al fatto che questa persona non ha più lavoro, è disoccupato e penso che abbiano una pensione di validità minima, quindi non è in grado di pagare l'affitto. Secondo il Comitato, l'assegnazione di una vasta parte del patrimonio immobiliare sfitto di Cremona porterebbe ad un abbattimento dei costi degli affitti, per questo le case verrebbero lasciate disabitate. Siamo in Via Platina al Civico 52, una bella palazzina Aler che avrebbe bisogno di pochi interventi di manutenzione ordinaria per essere abitabile, appartamenti in buone condizioni con infissi quasi nuovi, appartamenti vuoti. Fino all'anno scorso eravamo a conoscenza di circa 600 appartamenti di proprietà pubblica sfitti come questo. Noi chiediamo già da tempo con gli incontri che abbiamo avuto con l'assessore Amore di mettere mano a queste case, quindi di cominciare a lavorare, perché sono situazioni come queste dove occorre poco denaro per riassettare questi appartamenti. L'occupazione è simbolica, c'è fuori uno striscione, abbiamo occupato altre case, andremo avanti a occuparle per portare l'attenzione della città a questo problema e poi le case cominceremo a occuparle, perché nel momento in cui inizieranno e non riusciremo a coprire tutti gli sfratti esecutivi che a Cremona si stanno succedendo in maniera molto grave, dovremo cominciare a occupare le case, insomma, di proprietà pubblica ovviamente. Nel blitz di oggi striscioni sono comparsi anche in case in ristrutturazione in via Bissolati, all'ex Canossiana e in via Porcellasco. Chiedendo conto all'Aler della grave situazione vissuta da molte famiglie, anche a Cremona, si rinnova l'invito all'Assemblea del Comitato stasera, come ogni mercoledì. Mercoledì sera, dalle 8.30 alle 10.30, è aperto presso via Mantua, numero 7A, uno sportello di ascolto antisfratto.